Cari amiche e cari amici di Barbosofia, la guerra in Palestina è ormai una guerra senza fine, certamente anche questa guerra, come tutte le guerre, terminerà, ma nel dire senza fine mi riferisco al numero ormai di morti palestinesi. Il numero di morti palestinesi ormai si conta, ma non si conta, nel senso che è una conta drammatica, tragica, di una vera e propria mattanza. Gli eventi del 7 ottobre hanno innescato un attacco da parte di Israele che appunto sembra non finire più. D'altronde Netanyahu è stato netto nel dire elimineremo Hamas. Se eliminare Hamas significherà probabilmente uccidere decine, decine di migliaia di palestinesi, questo il governo israeliano farà. La tregua non ha tenuto, chiaramente per colpa di chi? Israele dice che è per colpa ovviamente dei palestinesi, di Hamas. Hamas dice che è colpa dello Stato di Israele e continuano ad avanzare nel nord della striscia di Gaza. E' ormai appunto una mattanza. Io quello che trovo veramente pazzesco in tutta questa follia generale è ormai appunto il livello di disonestà intellettuale dei nostri telegiornali, perché ci sono intellettuali giornalisti in Italia che ancora continuano a fare il loro mestiere, ma i telegiornali non si possono più ascoltare, mi spiace dirlo. Lo sapete, le parole formano la realtà, le parole narrano gli eventi, dunque gli eventi, in base a come sono narrati, prendono non solo forma ma anche sostanza. Ormai da qualche settimana i telegiornali italiani hanno deciso di raccontare la guerra così, guerra tra Israele e Hamas. La guerra tra lo Stato di Israele, che deve difendersi, e Hamas, che è un'organizzazione terroristica. Quando tu dici Hamas, lo spettatore anche dice «Ah no, stanno uccidendo i militanti di Hamas». «Ah, è una guerra tra Israele e Hamas», dunque un gruppo fondamentalista, islamista, jihadista, terrorista. Ok, capite, non è più la guerra tra lo Stato di Israele e la Stice di Gaza, no? Che in realtà c'è anche una guerra nei territori occupati, perché oltre al fatto che i coloni si sono sempre più radicalizzati nei territori non loro, avvengono decine di morti anche nei territori occupati a Cisgiordania. Però non solo non dici più Palestina, non dici neanche più Stice di Gaza, dici la guerra tra Israele e Hamas. Peccato che questi ormai 15.000 morti, di questi 15.000 morti, chissà quanti sono militanti in milizia di Hamas. Ben pochi. Ebbene, ma ieri ha avuto ancora una cosa terribile, 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 terribile. Israele ha attaccato il sud del Sidi Gaza, cioè quei territori in cui ha detto di andare. Israele ha fatto un appello affinché i palestinesi abbandonassero Gaza del nord e si rifugiassero a Gaza sud e ha bombardato i territori in cui si sono rifugiati. Credetemi. E ve lo dice una persona che ha avuto parenti acquisiti ebrei, morti ad Auschwitz. Ve lo dice una persona che sta per andare ad Auschwitz con la sua classe, ma una cosa del genere, bombardare un territorio in cui tu hai detto di poterti rifugiare, è inaccettabile e non lo può di fatto fare nessun paese al mondo. Guardate che Biden è in grande difficoltà. Lo so, alcuni di voi mi diranno, ma no, fanno finta il gioco delle tre carte. Sono d'accordo. dentro i repubblicani e dentro gli democratici la critica verso questo tipo di guerra che conduce Israele è forte, è forte, nonostante siano i studi pro-Israele, ma Biden non vorrebbe questa escalation, avrebbe voluto che la tregua continuasse. Non badiamo solo le dichiarazioni ufficiali. Israele è in parte senza controllo, fuori dal controllo. C'è il rischio veramente che il 7 di ottobre sancisca proprio una fine di Israele che avevamo conosciuto, questo carico di violenza è accettabile. Ieri sono stati bombardati, bombardati i territori del sud dove Israele ha detto di rifugiarsi, dove Israele è invitato a recarsi. Israele ha bombardato i territori in cui sono andati i palestinesi dopo l'appello di Israele. È una cosa inaccettabile, ma lo dico per la sicurezza di Israele un domani, lo dico proprio per la democrazia di Israele. Tanto i palestinesi ormai nel grande gioco sono carne da macello, i paesi limitrofi li hanno sempre usati e continuano a usarli per i loro sporchi giochi. È veramente terribile, è veramente terribile, terribile. Vi leggo l'appello per finire della direttrice generale dell'UNICEF che sarà un antisemita anche lei, dite voi, lo dico agli intellettuali liberali italiani e quelli disonesti, quelli onesti no, ma sapete c'è questo... Perché poi per me sono insopportabili. Quello che stanno facendo è insopportabile e di fronte a questo massacro iniziano in fronte dicendo c'è il diritto di difendersi, ma il diritto di difendersi non è mai il diritto di massacrare, sterminare. Non funziona così, ripeto. Io sono senza parole. La direttrice dell'UNICEF, l'UNICEF, James Helder, dice questo, è un appello. Oggi coloro che sono al potere hanno deciso che l'uccisione dei bambini sarebbe ricominciata a Gaza. Se mi concetto un minuto posso dire quello che avevo già preparato prima dell'inizio degli attacchi. La situazione umanitaria a Gaza è così pericolosa e qualsiasi altra cosa diversa da una pace duratura ed aiuti d'emergenza su larga scala significherà una catastrofe per i bambini di Gaza. L'UNICEF, l'organizzazione dell'ONU che si occupa di bambini di infanzia. E tale è l'enormità dei bisogni, tale è stato il blocco degli aiuti per così tanto tempo che nonostante gli enormi sforzi di quest'ultima settimana la situazione peggiora di giorno in giorno, una situazione nutrizionale e igienica. Che colpanno questi bambini? Ditemi che colpanno questi bambini perché si è accettata questa logica di bombardare e sterminare bambini. Si è accettata la narrazione questa penosa occidentale pro, pro che cosa, non lo so, ha deciso di accettare questo, ha deciso di accettare questo. È una cosa improponibile. Avrei concluso dicendo, dice, è quindi necessario attuare un cessato del fuoco duraturo. L'alternativa è impensabile per chi vive già in un incubo. L'inazione è un'approvazione dell'uccisione dei bambini. Ma eccoci qua, le bombe sono iniziate pochi secondi dopo la fine del cessato del fuoco. Sono andati immediatamente all'ospedale, sono andato, Nasser, mentre ci avvicinavamo ho visto che c'è stato un attacco a circa 50 metri di distanza. Nasser è il più grande ospedale ancora funzionante di Gaza e almeno al 200% delle sue capacità. Centinaia di donne e bambini dormono nelle salle d'attesa dei corridoi. I bambini con le ferite della guerra sono ovunque. Gli ospedali non possono accogliere altri pazienti feriti. Io mi chiedo, lo ripeto, lo ripeto, ecco cosa serve dire che la guerra è tra Israele e Hamas per annientare queste vicende, annientare questi fatti, annullarli e così dobbiamo andare alle parole della direttrice perché non c'è giustificazione a tutto ciò. Non si può dire il 7 ottobre allora, il 7 ottobre allora che con allora decine di migliaia di morti, migliaia e migliaia di bambini, questo è il prezzo da parte del Stato. E alcuni dico, sì, perché la guerra, la guerra. No, la guerra non è la guerra. La guerra deve avere ancora delle regole. Ma da tutte e due le parti, sì, da tutte e due le parti, ma tu sei uno Stato democratico e istituzionale di diritto come è il consesso di Stati a cui si appartiene, a cui si appartiene perché altrimenti uno è palla al centro, è così che funziona. E poi ripeto che prima del 7 ottobre ci sono anni, 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 anni di umiliazione. Questi sono sottoposti i palestinesi che ha portato alla crescita criminale di Hamas. Il sistema è distrutto. Ho visitato un ospedale nel nord del paese che di solito dovrebbe fare rinvii a visite specialistiche. Ora è il più grande ospedale funzionante del nord. Sangue e bende insanguinate coprono il pavimento. Il personale sanitario è esausto. La chiesa all'interno dell'ospedale è un pronto soccorso e è stata colpita. Ho visto una madre piangere mentre il figlio moriva dissanguato. La morte è ovunque. Sono andato all'ospedale di Nasser per tutta la settimana per ascoltare i bambini coraggiosi, instancabili operatori sanitari palestinesi, le famiglie. Ho giocato con i bambini cercando di distrarre dolcemente al loro incubo e a volte ho potuto vedere un lieve cambiamento nei loro volti. Uno scorcio di infanzia che ritornava non più. La povera è tornata così come i feriti mentre lì sono arrivati i corpi insanguinati ed è incosciente pensare che altri attacchi contro la polazione di Gaza possano portare a qualcosa di diverso dalla carneficina. Eppure ci sono state tre o quattro grandi esplosioni nelle vicinanze anche adesso. Di certo qualsiasi conversazione su Gaza deve iniziare con l'empatia. È profondamente inquietante sentire come alcuni siano stati in grado di ignorare la tragica morte di questi bambini e ora oggi sembrano essere a proprio agio con gli orrori gli attacchi che ricominciano. Accettare il sacrificio dei bambini di Gaza significa che l'umanità si arrende. La striscia di Gaza è di nuovo il luogo più pericoso del mondo per essere un bambino. Dopo sette giorni di trego da un'evidenza orribile i commantimenti sono ripresi prima della pausa secondo le notizie unice più di 5.300 bambini polistinesi sono uccisi in 48 giorni di bombardamenti incensanti un dato che non include molti bambini dispersi principalmente sepolti sotto le macerie se la violenza dovesse tornare su questa scala di intensità possiamo presumere che altre centinaia di bambini saranno uccisi e feriti ogni giorno e non saremmo in grado di far arrivare acqua, cibo forniture per sette giorni un brume di speranza tutto è finito incubo più di 30 bambini tutti in ostaggio a Gaza sono liberati uniti alle loro famiglie la pausa umanitaria ha permesso di aumentare le consegne di prima necessità a Gaza l'unice e i suoi padri hanno potuto incrementare in modo significativo l'operazione e i programmi abbiamo potuto separare togliere dei malati aiutare dei malari e iniziare a riunire le famiglie ciò non è stato sufficiente per soddisfare l'entità dei bisogni ma è un inizio ora abbiamo bisogno di un accesso sicuro per poter raggiungere i bambini freddi e disfollati dobbiamo far arrivare aiuti ai bambini che sono vulnerabili clinicamente il clima sta facendo freddo 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 i bambini hanno bisogno di un cessato del fuoco umanitario duraturo chiediamo tutte le parti di garantire che i bambini siano protetti assistiti in conferenza con gli obblighi previsti dal diritto umanitario tutti i bambini del Stato di Palestina e di Israele meritano la pace e la speranza di un futuro migliore siamo arrivati a questa cosa chiedere un cessato del fuoco per i bambini non vengono rispettati i bambini è normale aver accetto questo di barbarie è normale per alcuni in Italia sì per alcuni in Italia sì io a questo livello di orrore di disumanità non mi arrendo sì non mi arrendo la disumanità di chi stupra chi taglia le gole e non mi arrendo la disumanità di chi bombarda massacra migliaia di bambini io scusate ancora se torno su questo tema ma non contiamo nulla nel senso che è un gioco troppo grande non possiamo fare nulla possiamo provare a denunciare a raccontare a ritrovare almeno un po' di umanità in noi fare pressione su un governo italiano tanto non conta nulla in questo scacchiere come non conta nulla tanti altri governi in uno scacchiere internazionale però facciamolo almeno per la nostra coscienza facciamolo almeno 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 per non diventare appunto delle mostruosità disumane poi se una piccola azione magari può un domani cambiare questo corso degli eventi io lo spero sempre dentro però il silenzio di fronte a questo massacro genocidio di fronte a questo sterminio non è accettabile non è accettabile